Da paese a Varago, da Carbonera a Treviso, scorrendo i post pubblicati sulla pagina Facebook dell'associazione Furti in Corso, le segnalazioni di colpi andati a segno o tentati sono oramai quotidiani. Nel mirino dei malviventi non solo le abitazioni ma anche le attività commerciali. Nel quartiere Santa Bona, Treviso, da qualche giorno i gnoti hanno preso di mira gli esercizi della zona. Colpo andato a segno nell'edicola cartoleria dove nella notte, tra lunedì e martedì, come ci racconta il titolare Bruno Frasson, i ladri con un grosso masso poi recuperato all'interno del negozio hanno sfondato la porta, scappando con due casse e gratta ai vinci. Poco distante nel panificio pasticceria Saccone, i segni sulla vetrata del blocco di cemento utilizzato da un uomo ripreso dalle telecamere di videosorveglianza. Un colpo non portato a termine o un atto vandalico spetterà le forze dell'ordine a chiarirlo. Certo è che la tensione tra i cittadini aumenta. Negli ultimi 15-18 giorni c'è stata un'escalation di furti, assieme appunto come dicevate anche voi delle truffe in realtà, che è incredibile, 5-6 furti a sera ma anche di più non è più ammissibile. Furti in corso appena la situazione epidemiologica lo permetterà è pronta a scendere in piazza con una manifestazione davanti alla prefettura. L'idea c'è e si farà, non c'è qualcosa da non poter fare. In quell'occasione Demma chiederà un incontro al prefetto, chiare le richieste da avanzare. Chiediamo assolutamente controlli. Il prefetto può chiedere dei rinforzi, come già ci è successo anche l'anno scorso e l'anno prima ancora. Ma c'è poi un campanello d'allarme di cui Demma intende discutere con il prefetto. La cosa che mi si chiede puntualmente è come posso comprare un'arma. Adesso ho voglia di prendermi una pistola, un fucile. A me viene il brividi alla schiena perché purtroppo chi conosce il mondo delle armi sa che è più una responsabilità averla in casa che una sicurezza. Voglio parlare anche con questo io al prefetto, nel senso che bisogna rendersi conto che sta iniziando un sentimento della giustizia fai da te. Voglio parlare anche con questo io al prefetto.